E chiudiamo parlando di arte, sin al prossimo 5 dicembre sarà possibile ammirare le opere di Leonardo Passeri, giovane artista Umbro, alla Galleria Artemisia di Perugia con la mostra intitolata A B Origine. 33 opere, linee e colori che richiamano i valori primordiali, colori forti che plasmano se stessi e danno vita a forme concrete pur nel loro astrattismo. È l'arte di Leonardo Passeri che con la sua mostra alla Galleria Artemisia di Perugia ha voluto dare testimonianza nel capologo Umbro del suo percorso artistico, segnato da una formazione londinese. Tornato nella sua Umbria, l'artista ha voluto esprimere con questa mostra tutto ciò che potenzialmente è dentro di sé. Ab Origine, il titolo esplicativo dell'esposizione, fruibile fino al 5 dicembre. Le linee che troviamo nei miei quadri e il colore, è un colore che a livello primordiale è in cerca della sua propria identità e questa evoluzione, questo continuo turbinio porterà il colore a plasmarsi in forme più concrete.